Il giocatore del Liverpool Supera l'avversario Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio 1-0 nel primo quarto d'ora E questo è un gol che merita di essere rivista Da sottolineare la fortezza e l'esecuzione sul passaggio indietro del compagno Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 E non poteva mancare il gol di CR7 Ma che gol è Ma che gol è Ma 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 La conclusione di CR7 si è più inchilata sul primo palo